Stava dicendo a chi avrebbe votato le primarie del PD prima? Io sono molto contento che abbia vinto Renzi perché dal mio punto di vista è talmente abissale la distanza tra noi ragazzi normali, io penso con una grande onestà intellettuale, voglia di studiare, di stare in mezzo alla gente, e questo signore qua che dice bugie in maniera, io penso che debba essere anche un attimino analizzato, da un medico dice, o da un esorcista, o da un esorcista, io penso che possiamo arrivare al 40%. Ma quindi nel senso avrebbe avuto più paura? Non siamo in tantissimi, ma io li definisco come grandi elettori, perché sono tutti potenziali consigliere comunali, consigliere regionali, sindaci parlamentari, perché è gente che attiva sul territorio, quindi per me vale mille il voto di una persona, non uno andato a prendere in una casa di riposo, accompagnato da un gazebo, dati due euro in mano e vota questo. Un milione e ottocento, sono tanti nel senso, perché poi anche rispetto a quelli che ha votato, mi hai sentito criticare il numero, io non ho criticato. Le chiedevo se avevo un po' di invidia, piacerebbe. Io sto valutando però che i numeri del Partito Democratico sono di molto diminuiti, quindi io penso che abbiano un problema interno. E soprattutto mi sembra diventato il partito con tutto il rispetto per gli over 65 dei pensionati, perché avrei letto oggi un articolo di Ivo Diamanti su Repubblica, che dice che il 42% di chi è andato a votare sono i pensionati. Senta, ma la notizia del giorno è che il New York Times vi accusa, accusa Movimento 5 Stelle, accusa Beppe Grillo di aver fatto una campagna contro i vaccini. Non mi guardi con quale faccia. No, ma ti guardo con questa faccia perché Grillo, Beppe ha risposto e ha fatto bene. Sì. Hanno commesso un grosso errore, ci piacerebbe sapere dove sono andati a prendere le informazioni. Perché voi non siete contro i vaccini. Ma no, mai fatto. Se voi doveste andare a guardare tutta l'attività parlamentare da parte dei nostri portavoce della Commissione Sanità, non c'è un atto parlamentare che ha come obiettivo quello di limitare i vaccini. Io ho due bambini, voi lo sapete. E ho fatto vaccinare i bambini. No, ma forse non si riferiva a dati parlamentari, ma anche a un livello di comunicazione meno istituzionale. Ovvio, qua si parlava di una sorta di dibattito politico che noi avremmo aumentato la volontà e l'informazione che i vaccini possono essere pericolosi. A me piace, il fatto che me lo diciate, anzi mi fa piacere, non l'abbiamo mai detto. Vaccinazione consapevole, come noi abbiamo detto, non significa non vaccinazione. Allargo, direttamente sulle navi. Sembra che quando uno parla delle ONG, la prima cosa dovrebbe ringraziare le ONG che vanno a salvare delle vite umane che rimangono in mezzo al mare, di persone che altrimenti morirebbero. Perché gli scafisti portano i gommoni, poi li lasciano lì, se muoiono o muoiono, loro hanno già preso i soldi alla partenza. Esatto. E noi questo facciamo. Ma il fatto di avere delle parole, diciamo, positive verso le ONG... La comunicazione è stata un po' aggressiva, fare chiarezza è una questione, alimentare la lotta tra ultimi e penultimi è un'altra. La comunicazione non dipende da noi, ma dipende come viene interpretato le nostre parole, non mi pare che siano state dette parole forti. Noi abbiamo detto che c'è, non il primo che passa per strada, ma il procuratore capo di Catania che ha detto delle cose. Tra l'altro il ministro Alfano degli Esteri, che pure lui è intervenuto affermando che bisogna fare qualche cosa, noi abbiamo dato una soluzione. La soluzione è, siccome oggi non puoi fare attività di indagine sulle navi, la puoi fare se hai il campo di accoglienza sul suolo nazionale, ma sulle navi hai una limitazione che dà il codice della navigazione. Noi abbiamo fatto una modifica al codice della navigazione che dice che i militari che sono sulle nostre navi, e chiediamo anche sulle navi straniere, ma sotto gli ammiragli italiani, possono fare attività di indagine lì sopra, affinché le procure in Italia attivino le indagini, facciano le intercettazioni e arrestino chi sta commettendo reati. Voi vi fidate delle ONG, diciamo generalmente? Ma ovviamente si stanno facendo un lavoro straordinario che addirittura molto spesso si sostituisce l'attività dei governi, perché la politica se ne frega molto spesso di chi sono iuti, siete disposti a trattare col PD sulla legge elettorale? O a parlare col PD? Rinunciate al satana? No, col PD ci mancherebbe altro. Ecco, allora, diciamo il premio di maggioranza, naturalmente è al 40%, vi interessa abbassarlo al 37 o al 35? Allora, noi abbiamo detto... Meno questo, cerchiamo di trovare... No, dico, mi chiami, Giorgio. Giorgio. La cosa da cui partire è l'Italicum costituzionalizzato. Siamo disposti, perché sennò ci dicevano che eravamo rigidi sulla nostra posizione, ad ammettere dei correttivi, io non posso dirti qua quali sono i correttivi. Perché no? Perché vorrei dirlo in commissione, perché la legge elettorale è l'autostrada che porta i rappresentanti del popolo in Parlamento e le cose vanno dette nei luoghi giusti. Sono detto come lui, che prima, perché è una cosa straordinaria, manda Emanuele Fiano in commissione a dire che gli piace una cosa, poi il giorno dopo va da Vespa e lo smentisce, cioè smentisce se stessi. Perché del resto va detto che questa legge elettorale, come è concepita al momento, porta o le larghe intese o l'ingovernabilità. Guardi che la simpatica GP è appassionata di legge elettorale. Significa. Esatto. Scusi, eh, signor Toni, Toninelli, Di Maio ha detto che lui era d'accordo a abbassare il primo di maggioranza. Noi siamo d'accordo a mettere dei correttivi di governabilità perché siano correttivi ma io ho appena chiesto prima se voleva... Ma i correttivi, Giorgio, però adesso non vediamo la gente, stanno cambiando tutti i canali. Giorgio, Tonine, l'ha detto Di Maio però, l'ha detto... Ci sono vari modi per aiutare un partito ad avere la maggioranza in Parlamento. Ma secondo lei si farà... Capolista bloccato? Eh, guardi che... Ma questo è un abominio, noi l'abbiamo... Tu sai che legali, com'è l'Italia, com'è l'Italia, com'è l'Italia, l'ha detto senza... Però cambiamo argomento, se no andiamo giù del 50%. L'unica cosa, secondo lei si farà o no? Io penso che non ce la facciano. Non ce la facciamo? No, allora... Se fosse... No, però... Allora questo però... Se fosse stato per noi saremmo già andati a votare. Ma voi non siete maggioranza, cioè... Però quantomeno siamo gli unici ad aver avuto un'idea e una proposta chiara. Gli altri ne hanno 22, ognuno disegnata su loro stessi. Dal Parlamento... Quindi di nove correnti interne, nove proposte di legge. Cambiando... Si andrà a votare con questa legge elettorale? Con la legge elettorale è diversa il numero... Sì, così Renzi avrà il modo di dire perché lui non è un parlamentare, non sta in Parlamento. Avete visto? Non sono capaci a fare niente, hanno creato la palude. E invece... Date il mandato a me che rifaccia tutto. Con leggi uninominali? E invece... Che cosa sono? No, no, non faccia... Invece... Sonia di sbarramento? Mamma che noia che sei... Con questa legge proporzionale potrete vincere voi le elezioni e a quel punto avreste bisogno di allearvi con qualcuno perché non arriverete sicuramente al 40%. L'argentese? Vi alleate con meglio Salvini o meglio Renzi? No, allora non parliamo di alleanze. Innanzitutto noi ci crediamo al 40%. E questo è bello che voi ci crediate. No, è giusto, uno deve gareggiare per arrivare prima, non per arrivare seconda. Però è escluso. Detto questo, se non dovesse... Bevi, perché tanto lo dovete fare. Beviamo, è acqua comunque. Sì. Detto questo, non ci dovessimo arrivare. Noi abbiamo un programma e ragioniamo sui contenuti. Sì, ma no. Le alleanze riguardano le poltrone, gli accordi riguardano il governo. No, quindi vi allerede con chi condividerà i vostri progetti. Però sa che, quindi... Perché no? Esclude di fare un governo con Salvini. Ma io, ti ripeto... Perché è importante, perché il paese poi quando si andrà a votare... Perché... Io non so che idea abbia Salvini. Io so che Salvini è un idove in tv per dire che... Per cercare di recuperare voti perché le ONG hanno fatto capire i cittadini che vent'anni di Lega non hanno risolto un problema sull'immigrazione. No. Quindi io, dico da Lombardo, so che Salvini è una persona che non ha credibilità perché non ha risolto un problema dei cittadini lombardi. Perché riveliare uno, non vi allerede mai con Salvini? Ma mi fai una domanda? Ho. Ti' V Estado. Tredo, è aviziano un business di medicare. Grazie a tutti